Gentili telespettatori, buona giornata. Il deputato Maggi si è sentito offeso perché dice la Meloni mi ha rinfacciato di stare al 3% ma lei tornerà a quella percentuale. Allora in Italia tanti partiti sono andati al 30-40% e poi sono tornati al 3%. 3, 4, 5, 6, guardate Forza Italia, la Lega, il Movimento 5 Stelle, guardate Renzi, insomma tutti salgono e poi ritornano giù perché emergono altri partiti. La Meloni ha rinfacciato a Maggi di stare al 3% per un semplice motivo. Questo Maggi ha tentato di disturbare e di impedire di fare un normale intervento della Meloni a un convegno. Quindi siamo alle solite dei diversamente democratici che ci sono in Italia. Quelli che si fanno chiamare democratici e hanno molto poco di democratico. Prima di tutto, caro Maggi, se non vuoi che la gente ti risponda male, non andare a dare fastidio a chi svolge la democrazia. Quindi andare con i cartelli a interrompere una conferenza non va bene. Se vuoi fare opposizione alla Meloni lo devi fare in Parlamento. Hai il 3%, cerca di avere una percentuale più alta, ma non è interrompendo le dichiarazioni di Meloni che tu ti fai strada tra l'elettorato. O meglio, non è mancando di rispetto alla democrazia. Perché una persona delle istituzioni che parla e tu che vuoi impedirle dare fastidio mentre sta parlando non è certo una cosa democratica. Quindi io inviterei queste persone a studiare che cos'è la democrazia e come si svolgono le dinamiche di un'opposizione in un paese democratico. C'è il Parlamento, ci sono i voti, ci sono gli elettori. Maggi, lei può andare tutti i giorni in giro a cercare voti. Il lavoro del parlamentare è quello di andare a cercarsi voti in giro per l'Italia, non star seduto in trattoria a Roma e nelle sedioline vellutate del Parlamento a schiacciare i tasti verde e rosso. Ecco, quindi la Meloni ha rinfacciato a Maggi che è al 3% perché Maggi stava disturbando la democrazia. Lui disturbando e cercando di impedire alla Meloni di parlare, la Meloni ha detto guardi Maggi anch'io ero al 3% e so cosa significa cercare la visibilità, che è infatti quello che è successo. Maggi con il suo partito al 3% va a interrompere la Meloni per cercare visibilità e far conoscere questo nome Maggi alla gente, che per il 99,99% delle persone è un nome sconosciuto, oggi sarà un po' meno sconosciuto perché ha avuto qualche articoletto sui giornali, qualche video, qualche menzione e quindi questo Maggi oggi è meno sconosciuto di prima perché aver tentato di impedire alla Meloni di parlare gli ha portato pubblicità. Vi ricordate quando Meloni era in auge? Salvini era in auge? Che era al 33-34, c'era qualche sondaggista che azzardava Salvini oltre il 40%. Quando Salvini era all'apice del consenso, molti scrittori sconosciuti, cantanti mezzi sconosciuti e tanti altri facevano proprio questo. Andare a dar fastidio a Salvini, offenderlo, visto che Salvini mandava solo bacioni e non denunciava nessuno ai tempi, poi ha cambiato idea e ha cominciato a denunciare. Quel modo di fare di Salvini aveva invogliato tanti mezzi sconosciuti ad offenderlo per la visibilità. Infatti in quei tempi mezzi scrittori, mezzi cantanti, mezzi cuochi erano sulla cresta dei giornali proprio perché offendevano Salvini e qualcuno è riuscito realmente a tirarne fuori anche dei contratti delle ospitate in televisioni perché ai tempi chi era contro Salvini faceva gioco della sinistra, quindi avanti tutti quelli che offendono Salvini. E così la Meloni ha semplicemente detto a un deputato semisconosciuto, con un partito piccolo, ha semplicemente detto lei è qui a interrompermi, lei che ha il 3%, ma la capisco, anch'io quando avevo il 3% cercavo visibilità, però mi lasci lavorare, mi lasci andare avanti. Ecco, quindi caro Maggi, Meloni mi ha detto che sono al 3%, lei tornerà al 3%, magari dal 30% andrà al 40%, magari un giorno tornerà al 4%, al 5%, al 6% come... La politica come le cose della vita sono un ciclo. Avete visto un partito italiano rimanere al 30% per più di due anni? No. Avete visto i grillini? Quanto sono durati al 33%? Qualche mese. Renzi quanto è durato a quel famoso 41%? Poco tempo. Berlusconi con cifre così alte quanto è durato? È stato alternato e poi è crollato giù. La Lega quanto è durata? È arrivata al 34% e poi è scesa, inesorabile. La Meloni non credo che possa stare al 30% per 10 anni. Magari sì, non è impossibile, però visto come funziona l'Italia, gli italiani ti danno il 30%, poi dopo un po' gli girano e votano un altro, poi poi vanno da un altro. L'elettorato italiano è molto molto mobile, anche perché la distinzione tra destra e sinistra oggi è un po' labile. Pertanto può essere che un giorno la Meloni torni al 3%. Sta di fatto che probabilmente è impossibile che la Meloni rimanga a 10 anni al 30%, a meno che non prenda tale forza e faccia delle cose così straordinarie per il Paese, che vada a compir tutte le promesse elettorali, le fa tutte, fa tutto e allora magari quel 30% può anche durare 10 anni. Però in Italia avete visto com'è difficile mantenere il consenso. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.